Andiamo! Non possiamo darvi la libertà. Però possiamo insegnarvi come conquistarla. E, amici miei, questo vale più di un'intera base d'acciaio. Il bastone più lungo ha la sua importanza, ma conta molto di più l'abilità di chi lo impugna. Questo è il tempo degli eroi. Il tempo delle leggende. La storia è scritta dai vincitori. Mettiamoci al lavoro. R.P.G. R.P.G. Sì. Hunter 2-1, power board, ricevuto. Devil 1-1, 2F-15 in arrivo. Aspettate. Hunter 2-1, qui Devil 1-1, 2F-15 in volo. Tempo d'arrivo da 1 a 5 minuti. Direzione 3 Sierra, nord-ovest, con due J-DAM e due Aro. Passo. Sposta in alto, non vieni a chi verso l'alimentazione. Vi aliminateli! In attesa. Devil 1-1, il bersaglio è un edificio residenziale bianco a 12 piani, inquadrante 252-171. Devi randere al suolo quell'edificio, ricevuto? Ricevuto, Hunter 2-1, ci sono. Bersaglio acquisito. Messo via! Siamo in fondo! Forza, andiamo, riporta il culo a bordo! Ci muoviamo, forza! Ci siamo, 10 secondi! Quello alto a ore 1. Ehi, senti, qual'è il edificio? Ore 1, quello alto... Ehi, Dave, qual'è? Quello a sinistra o quello a destra? Quello a sinistra. Ehi, non è un pericolo ravvicinato per la task force. Da quanto in qua? Shepard frega qualcosa del pericolo ravvicinato. Sì, sì! Sì, così si può! E non c'è questo! Il battaglione è in movimento! Ok, ci muoviamo! Guardate, guardate! L'edificio sta crollando! E non c'è uno per questo! Continua a sognare! Va, tu, cazzo! Non c'è uno pericolo! Non c'è uno pericolo! Hunter 2 in fuga! Ricevuto, Hunter 2! Hunter 2, attenzione ai civili! Non siamo autorizzati all'ingaggio, a meno che non ci sparino per prima! Cercate i nemici sul tetto! Rimanete calmi! Vedi qualcosa? Niente! Questo posto è un mortonio! State allerta, gente! Qui siamo nel far west! Ricevuto! Ispezionate le strade! Ispezione! Tre contatti! Balcone a ore 12! Probabilmente miliziali! Sono armati! Negativo! Ci osservano! Scommetto che ci stavano cercando! Non per questo possiamo sparare! Li vedi? Li vedi? Non vedo nulla! Qui è il C7 Polic! Prepararsi all'ingaggio! Prepararsi all'ingaggio! Ci siamo! Ci siamo! E' pieno di contatti! Davanti e dietro! Eccoli! Fammi saltare! Ce ne sono troppi! Ritirata! Ritirata! Portaci via di qua! Corri! Corri! Facci! Ho avuto scena! Ho tornato! Tanti! Capito! Ci stanno pag Ci sta andando lì! Siamo bloccati! Siamo bloccati! Ultimo piano! Dritto davanti a noi! Andiamo! Sì, il battaglio è agganciato! Sul tuo posto, ragazzi! Buha! Si sta provando di sopra! Voglio una cercante lì dentro! Allora, paratevi dalle finestre e prendete il controllo dell'ultimo piano! Muoversi! Hunter 2-1, Hunter 2-3! Vedo la scuola! Hunter 2-1, non possiamo combattere! Fuoco nemico pesante proveniente dalla scuola! Potete aiutarci! Passo! Squadra, qui da me, andiamo! Resistente, 2-3! Stiamo arrivando! Passo e chiudo! Attacchi, sono i giocchi della classe a destra! Non vi fermate! Dobbiamo dare una mano a Hunter 2-3! Seguite la finestra! Finestra a sinistra! Sopritemi! Finestra a sinistra! Sto passando dall'aula di storia! Ho ricevuto! Hunter 2-1, qui Hunter 2-3! Grazie per l'aiuto! Ce ne abbiamo! Passo! Ho ricevuto 2-3! Non faccia sparare fuori dalla mia traiettoria! Vedo di averne visto uno correre in quell'aula! Via libera! Hunter 2-1 Actual a Overlord! Hunter 2-1 Actual, qui Overlord! Fornite informazioni! La scuola è sotto controllo! I nemici si stanno ritirando dall'area! Ci resta solo da passare lo straccio! Ha ricevuto, Hunter 2-1 Actual! Con cautela verso il punto di raccolta! Forse ci sono altri nemici nell'area! Passo! Ha ricevuto, Overlord! Grazie per il consiglio! Chiudo! Squadra! Fate attenzione ai nemici rimasti! Andiamo al punto di raccolta! Poverse! L'Hard che non lo chi mette l'americolo! Movimento! Movimento! Come è? 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 Via libera!